Spezzeli agli spinaci, spinaci lessati e strizzati, due uova, un pizzico di sale e noce moscata. Frullo tutto, verso la farina poca alla volta e miscolo. Lascio riposare l'impasto per mezz'ora in frigo. Sciolgo un po' di burro in padella, aggiungo lo speck tagliato a pezzetti, verso un po' di Philadelphia. Formo gli spezzeli con un cucchiaio di impasto. Cuocio in acqua bollente salata per due minuti e verso tutto nel condimento. Buoni e veloci da fare.